salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono qui oggi per presentarvi questo fiat agri 160 55 di 352 c e pepe 978 del team fsi ve lo presento ve lo presento perché mi ha incuriosito come ben sapete vi ebbi presentato l'88 85 ancora nel farm simulator scorso e veramente veramente una buona mod un'ottima mod che ovviamente si sposa va a nozze per la terra italica quindi iniziate a far scorta di questa tipologia di mezzi qui che penso molti di voi attendevano e è il primo e non sarà l'ultimo perché ci sono altre mod in cantiere e basta per il resto è a posto ovviamente l'ho testata guardata e quant'altro sono contento di vedere questa tipologia di mezzi qua punto primo perché io mi incuriosisco fatto sta che nella mia zona non esistono questi mezzi qui quindi a maggior ragione io li scarico li guardo li provo li uso e quant'altro quindi è una una cosa in più diciamo che mi attira in questi mezzi qui e poi che io sappia il team fsi è l'unico che almeno pubblica questa tipologia di mezzi qui cingolati perché non mi risulta ce ne siano da altri disponibili nel mercato del modding quindi diciamo sono gli unici e veramente veramente quindi anche vi ringrazio inoltre per il lavoro che fate e non penso sia facile diciamo costruire questa tipologia di mezzi qui e quant'altro anche perché magari reperire foto dettagli eccetera non penso sia del tutto semplice e basta per il resto io sì ovviamente vi ripeto ho provato la mod guardata e quant'altra e quant'altro è ben fatta c'ha tutte le sue animazioni particolarità del caso ovviamente non ha elettronica non ha computer non ha ic e tutto quindi è molto molto spartana come è giusto che sia a qualche sia le animazioni che servono animazioni delle cloche di sterzata dei freni dell'acceleratore manuale c'è la possibilità lo script del spostamento della testa in cabina della testa della visuale potete spoggervi a destra e a sinistra c'è la possibilità di traslare spostare il gancio traino posteriore come sound ci siamo una cosa che un piccolo appunto che mi permetto di fare è che quando voi cambiate e switchate il visuale da dentro a fuori poi appunto ve ne accorgerete c'è un cambio di sound a mio avviso mio modesto parere appunto sarebbe bello sarebbe stato bello avere lo stesso sound dentro e fuori perché appunto non è che ci sia cabina o vetri o qualcosa di ermetico che smorzi che smorza il sound quindi sarebbe stato bello averlo sia stesso in tutte e due le visuali comunque è un mio piccolo appunto magari fate finta che quando ho cambiato il visuale avete i tappi le cuffie così sentite sentite meno comunque cuffie a parte si dicevo per resto è a posto poi c'è la vibrazione della marmita l'animazione dei cingoli è veramente veramente ben fatta anche il sound dei cingoli e tutto quanto l'esperienza di guida è veramente bella a me piace cioè vi ripeto non ne ho mai guidato uno non sono mai salito non ho mai visto uno ma veramente sì ho guidato gli escavatori cingolati quindi più o meno insomma siamo lì come movimentazione cingolata quindi veramente riproduce bene il feeling di guida che si ha con questi mezzi qui poi per resto allora qui vi ho preparato un altro che come ben vedete c'ha una piccola cabina senza vetri senza niente quindi appunto è una sua opzione che appunto potete montarla e poi qui davanti c'è il pacco di zavorre che può essere comprato come peso diciamo a parte che potete agganciare basta bene allora prima di andare a provarlo in campo andiamo un attimo a vederlo ovviamente sulla categoria trattore sullo shop abbiamo eccolo qua lo troviamo in fondo fiatta che 160 55 30 mila euro di costo 45 euro di manutenzione giornaliera 160 cavalli di potenza e 15 km orari quindi non è proprio una lepre negli spostamenti doppio click design abbiamo lo standard che è quello senza cabina poi passiamo con 5 mila euro di surplus alla nostra versione cabinata torniamo indietro andiamo sulla sezione pesi andiamo in in fondo troviamo appunto la zavorra fiat da 350 euro di costo e nessun costo di manutenzione giornaliera ok siamo andati sulla luna nel frattempo bene adesso andremo a fare qualche aratura andiamo a provarlo un po volevo dirvi che ho trovato su novinky questi piccoli aratri che sono una figata veramente sono bellissimi e con questa tipologia di mezzi qui si sposano e cascano proprio a fagiolo guardate che razza di texture che hanno veramente sono bellissimi veramente belli ci hanno il dirt e tutto sono completi ovviamente arrivano dall'est adesso andiamo un in fondo guardate anche la scritta in cirillico io proprio sono andato a vedere apposta per se trovavo aratri di questo genere qua tac è un pack appunto c'è trivomere quattrovomere pentavomere esavomere e questo qua dovrebbe avere 10 11 12 insomma veramente sono bellissimi se vi piace lo stile se volete accompagnare solo come si suol dire su quel aratro lì scaricateli perché meritano veramente vi lascio il link in descrizione dateci un'occhiata ok ok allora cosa stavamo facendo bene dobbiamo entrare salire provare quant'altro quindi appunto accendiamo qua abbiamo i comandi i comandi scusate il tachimetro analogico animato abbiamo spie dei fari come ben vedete fari normali fari di lavoro anteriori fari di lavoro posteriori eccoli qua la nostra cara fanaleria abbiamo inoltre la spia delle frecce eccola qua tutto quanto completo freccia destra freccia sinistra allora le particolarità che vi dicevo prima della visuale le potete fare spostamento del mouse tasto destro e spostamento destra e sinistra per spostarvi ovviamente la visuale come ben vedete ottima ottima cosa poi vediamo un attimo da fuori la questione del gancio traino va spostato con il tasto sinistro del mouse spostando a destra e a sinistra il nostro caro mouse bene 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 poi appunto abbiamo l'animazione delle cloche di sterzata come vedete anche con il relativo spostamento dei freni ecco qua qua abbiamo la diversione della marmitta faccio vedere un secondo i cingoli la movimentazione anche il cingolio e tutto è veramente ben fatto il sound guardate come si muovono bene veramente complimenti ok poi andremo a rivedere la natura aggacciamo il pentavomere proviamoci per strada che cacchio ho preso adesso si dicevo non li ho mai visti dal vivo questi mezzi qui ma penso che appunto li abbiano ricreati veramente veramente bene quindi magari chiedo a chi li ha visti a chi magari li usa che in ascolto che magari mi dia conferma provandoli non penso che il comfort sia il loro forte di questi mezzi qui perché penso sia un un carro armato negli spostamenti un terremoto mamma mamma penso che stai sopra tutta una giornata poi senza cabina così al sole magari del centro italia o del sud italia sia veramente veramente una giornata coi fiocchi e comunque e comunque penso penso che questa tipologia di cingoli qui coi cingoli di ferro tirino come delle bestie perché poi avendo il motore che al 160 credo veramente che mamma mamma secondo me tirano giù anche la casa sti mezzi qua ok allora iniziamo un po ad arare attenzione ragazzi che sti aratri qua sembrano un niente ma si fan tirare credetemi quindi scegliete le potenze giuste perché già qui col quadri guardate col pentavomere perché siamo in discesa ci andiamo ma se siamo sul piano non fate fatica a tirarlo con 160 cavalli quindi all'occhio comunque intanto diamo un'occhiata sentite appunto come vi dicevo prima che quando si cambia visuale abbiamo le cuffie qua c'è il nostro acceleratore manuale se non l'avete già visto si vabbè adesso io sto facendo un po di ironia sulla questione delle cuffie eccetera ma appunto come vi dicevo all'inizio secondo me sarebbe stato bello avere lo stesso sound con tutte e due le visuali perché appunto per la questione che vi ho detto prima comunque ok qua sono mie considerazioni che sapete che sono pignolo e poi insomma mi piace dir la mia ok andiamo avanti vedete anche la visuale comoda forse forse con un tipo di visuale qui che possiamo tenere d'occhio il cingolo qua riusciamo anche andare dritti senza spostare visuale ogni volta avanti e indietro adesso sono proprio curioso di vedere cosa ho combinato tanto per vediamo se sono andato dritto wow vediamo eh si eh si eh si il visuale is the way perfetto vedete qua l'altro inizia già a zozzarsi eh appunto come vi dicevo all'inizio questo periodo qua vedo che molti stanno dedicando a attrezzatura piccolina italiana quindi appunto vi ripeto come ho detto all'inizio iniziate a far scorta di questi mezzi italiani qui perché ce ne saranno e veramente sono ottimi c'è nel senso ci stanno da usare su queste mappe qui come tutti gli attrezzi dell'est da usare sulla bruzda nella bruzda come tutti gli italiani usare qua ogni mappa è sempre bello diciamo ricreare completamente tutto diciamo il mondo che rappresenta la mappa ecco insomma mezzi e tutto e per fare una cosa tutta tutta accompagnata ecco ho visto che qualcuno mi ha chiesto di fare una live sulla bruzda non lo so non lo so non lo so ci avevo pensato a dire la verità però appunto devo dovrei rivedere tutti i mezzi dovrei poi veramente andrei fuori di testa a giocare su quella mappa lì c'è una roba veramente impazzirei in live ok io qua taglio torniamo un attimo di qualche vi saluto bene 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 ragazzi miei io sono giunto al capolinea vi saluto qui non ho altro da aggiungere come vedete mod molto semplice non ha chissà che come è giusto che sia ovviamente non deve avere chissà cosa quindi basta io passo un attimo a palla a voi ditemi un po cosa ne pensate provatelo scaricatelo dateci un'occhiata ringrazio e saluto 352c e peppe del team fsi basta ragazzi vi ringrazio per l'attenzione vi saluto ci vediamo prestissimo nei prossimi video ciao ciao